soldi del patto per salvare lo zuccherificio i 378 milioni sono a nostra disposizione annunciato frattura mozione del centrodestra palazzo moffa la regione riprogrammi 30 milioni per rilanciare l'azienda l'invito di iorio assunzione dei disabili presentato un esposto un'associazione di isernia ha depositato una denuncia contro la regione nel mirino una graduatoria le procedure molti interessati riuniti in comitato genitori pronti alla piazza per le scuole sicure dopo le polemiche gli appelli caduti nel vuoto i comitati si organizzano isernia programmata una manifestazione per la sicurezza degli edifici scolastici vittime delle truffe due spot della polizia non siete soli chiamateci sempre la campagna ideata da gianni ippoliti per invitare a collaborare con le forze dell'ordine oggi il primo spot lanciato sul profilo facebook della polizia coppa italia in campo per i quarti oggi tra mezz'ora le gare d'andata del torneo tricolore regionale solo il boiano milita in promozione le altre sono tutte del campionato d'eccellenza un saluto dalla redazione a tutti voi edizione delle 14 del nostro telegiornale in apertura parliamo dei soldi del patto per il matese nella giornata in cui il governatore lo vedremo tra poco ha annunciato che i 378 milioni previsti per opere inserite in quello che è stato chiamato patto per il molise ricorderete sottoscritto all'università insieme al premier renzi sono a disposizione lo ha certificato la corte dei conti mentre arrivava questa notizia arriva anche la mozione del centrodestra in consiglio regionale con la quale gli esponenti del centrodestra con Iorio in testa chiedono che venga riprogrammata una parte di quel patto e che 30 milioni siano destinati al rilancio dello zuccherificio il servizio di Anna Maria Di Matteo la mobilitazione dei lavoratori dello zuccherificio non si ferma il presidio va avanti intanto nel corso dell'ultima seduta del consiglio regionale una delegazione ha organizzato un sit-in davanti ai cancelli di palazzo moffa per sollecitare risposte dalla regione risposte che tardano ad arrivare peggiorando ogni giorno che passa una situazione già grave a prendere iniziativa tuttavia l'ex presidente della giunta regionale michele Iorio che tra l'altro all'indomani della chiusura dello stabilimento era andato a portare la propria solidarietà ai lavoratori in presidio ma oltre alla solidarietà l'ex governatore ha preparato una proposta per rilanciare la filiera saccarifera e salvare i posti di lavoro contenuta in una mozione di cui è primo firmatario sottoscritta dai colleghi di opposizione Cavaliere Fusco e Sabusco e presentata in consiglio regionale la proposta prevede la riprogrammazione dei fondi del patto per il molise destinando 30 milioni di euro al rilancio della filiera dello zucchero dei 30 milioni 25 dovranno essere utilizzati per l'attuazione di un programma operativo dedicato alla filiera produttiva dello zucchero e dei suoi derivati con strumenti e sistemi agevolati capaci di sostenere il settore i restanti 5 milioni andranno invece finalizzati al sostegno al reddito e al ricollocamento dei lavoratori la mozione dunque chiede impegni ben precisi al presidente della regione anche perché ad oggi a parte gli annunci nulla si è mosso occorre individuare una strada che consenta di accelerare le procedure perché anche l'area di crisi non complessa annunciata come la soluzione al problema e di cui potrebbe beneficiare l'impianto saccarifero prevede tempi lunghi troppo lunghi per i lavoratori che invece non possono più aspettare le risorse del patto per il molise ha dichiarato frattura come avevamo anticipato poco fa 378 milioni di euro sono a nostra disposizione la corte dei conti ha registrato le due delibere adottate dal cipe ha aggiunto il governatore da palazzo vitale il 10 agosto sulla ripartizione e l'assegnazione del fondo di sviluppo coesione 2014 2020 abbiamo aggiunto frattura la costruzione del patto firmato a fine luglio con il presidente del consiglio renzi iniziamo a dare concretezza i contenuti con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale nei prossimi giorni attiveremo le azioni destinate alla crescita del molise si apre un altro fronte però quello delle assunzioni dei disabili un caso che ha messo in moto soprattutto le associazioni che hanno presentato un esposto contro la regione ce ne parla in questo servizio pasquale di bello dalle parole ai fatti la sezione provinciale di sernia dell'associazione nazionale mutilati e invali di civili ha preso carta e penna e con un esposto denuncia ha chiesto agli inquirenti di fare piena luce sulle procedure che hanno portato alla selezione di quattro persone da avviare al lavoro presso la regione molise le quattro assunzioni destinate ad altrettanti disabili secondo quanto previsto dalla normativa nazionale legge 68 1999 e da un'apposita convenzione stipulata tra la regione molise e la provincia di campo basso avrebbe dovuto rispettare il criterio della chiamata nominativa in realtà la regione molise ha proceduto secondo più voci impropriamente a selezionare le quattro persone sulla base di un mero elenco la cui graduatoria come se fosse un normale concorso è stata stilata da una commissione nominata dalla stessa regione in molti sin dal primo momento hanno sollevato dubbi sino a quando il caso è scoppiato ed è oggi finito sul tavolo degli investigatori scopo dell'iniziativa messa in campo dall'associazione mutilati e invalidi è quello di fare piena chiarezza sulla vicenda alla stessa associazione possono fare riferimento i numerosi disabili che hanno manifestato il proposito di riunirsi in un comitato a tutela delle loro ragioni la vicenda riguarda oltre 100 persone l'amnic ha ritenuto doveroso esporre una denuncia alla procura della repubblica ho ritenuto che la delibera fatta dalla regione che determinava l'assunzione dei disabili era poco chiara e questo perché perché c'erano i quattro i quattro disabili nominativi che dovevano essere inseriti al mondo del lavoro guardando quello che era il bando ho ritenuto opportuno chiedere delle delucidazioni c'è stata una commissione nominata dalla stessa regione dobbiamo vederci chiaro io mi aspetto che i disabili del molise coloro che hanno partecipato a questo bando si facciano avanti perché i diritti dei disabili sono dei diritti che non possono essere dimenticati dalla regione per ora nessun commento salvo qualche volgare insulto lanciato da un dirigente via facebook tutto tace ora dopo la denuncia saranno gli inquirenti a dire come sono realmente andate le cose parliamo di sicurezza degli edifici pubblici un tema particolarmente sentito per questo ha detto il consigliere regionale di 5 stelle antonio federico il movimento oltre a sostenere un ordine del giorno sull'anagrafe dell'edilizia scolastica sta lavorando una proposta di legge sul cosiddetto fascicolo del fabbricato una specie di carta di identità dei palazzi la proposta ha concluso federico sarà presentata nei prossimi giorni ma non si abbassa la guardia a isernia le proteste dei comitati si trasformeranno in una manifestazione di piazza ce ne parla enzo di gaetano isernia in piazza giovedì mattina per il corteo e la manifestazione in difesa della sicurezza delle scuole motto della protesta la scuola è vita ed è singolare come la notte scorsa ad opera del blocco studentesco siano state apposte sulle recinzioni del cuoco manuppella e dell'enrico fermi delle finte bare di cartone riportanti la scritta studente morto per terremoto insieme a volantini con su scritto non c'è più tempo verifiche antisismiche ora è chiaro che il blocco studentesco espressione del movimento casa pound ha colto l'occasione per far sentire la sua voce anche se in maniera così rituale e allo stesso tempo inquietante è altrettanto chiaro però che quanto accaduto non ha niente a che fare con gli organizzatori della manifestazione il comitato scuole sicure che ha subito censurato l'iniziativa e eliminandola dalla propria pagina facebook ma senza alcun dubbio tutto ciò fa emergere il senso di malessere e di angoscia che pervade ogni famiglia isernina di fronte ad una situazione che vede davvero al sicuro solo gli scolari delle elementari ospitati nei prefabbricati di san leuce san lazzaro per tutti gli altri scolari e studenti c'è un interrogativo enorme senza risposta reggerebbero scuole vecchie decine di anni a un terremoto di intensità pari a quello di amatrice o norcia nessuno lo sa per questo domani banchi vuoti nelle scuole disernia per partecipare insieme ai genitori ad un corteo ed una manifestazione che non vogliono avere alcun retroterra politico ma solo tanta voglia di chiedere aiuto a chi ci governa per mettere al sicuro i nostri ragazzi renzi lo ha detto più volte i soldi per la sicurezza delle scuole non rientrano in alcun vincolo di bilancio solo che alle parole del premier dovranno seguire i fatti le uniche scuole sicure disernia furono costruite dopo il terremoto dell'aquila grazie a un finanziamento straordinario concesso dal governatore Iorio alla città disernia e oggi isernia si aspetta che il governatore frattura faccia la stessa cosa che fece il suo predecessore uno stanziamento straordinario per trovare alternative immediate ad almeno tre scuole che versano in condizioni problematiche le medie giovanni ventitraesimo e andrea disernia e l'istituto tecnico fermi e la manifestazione servirà proprio a questo a smuovere le coscienze di chi ci governa a livello nazionale regionale sostenendo l'azione di un'amministrazione comunale che proprio dalla manifestazione popolare dovrà tarre tutta la forza necessaria a far valere le proprie ragioni sia a campo basso che a roma tutti in piazza quindi domani concentramento davanti all'istituto fermi alle nove con il corteo che scenderà lungo corso di sorgimento girerà davanti al tribunale e risalirà percorso garibaldi finendo davanti alla stazione in alcuni momenti della vita c'è bisogno di farsi sentire e scendere in strada e questo per isernia è uno di quei momenti la cronaca ora si rafforza l'ipotesi della criminalità pugliese tra gli investigatori che indagano sulla rapina avvenuta ieri all'ufficio postale di sant'elia a pianisi 38 mila euro il bottino del colpo messo a segno da due uomini che hanno agito a volto coperto e armi in pugno dopo aver atteso l'arrivo della direttrice all'esterno dell'agenzia l'hanno costretta a consegnargli i soldi e sono fuggiti hanno anche staccato il circuito delle telecamere interne ed esterne segno che il colpo era stato studiato nei minimi dettagli rapina anche alla farmacia di termoli a difesa grande un tentativo di furto in un appartamento sentiamo fabrizio occhio nero la polizia indaga sulla rapina compiuta martedì sera la farmacia di difesa grande dove due giovani con il volto coperto da una busta hanno minacciato il personale con un taglierino e si sono fatti consegnare l'incasso circa 700 euro gli agenti del commissariato di termoli coordinati dal dirigente vincenzo sullo hanno ascoltato i testimoni effettuato i rilievi per raccogliere indizi e risalire all'identità dei due banditi che sarebbero scappati a piedi la rapina in farmacia si aggiunge ad alcuni furti in appartamento avvenuti nelle ultime settimane in città e al tentato furto in una casa popolare di via malfi dove una coppia ha trovato l'abitazione sotto sopra e ha passato la notte fuori ieri sera siamo andati a mangiare tra gli amici e appena sono tornato aperto la porta come sempre tutte le sere ho trovato una brutta sorpresa che ho trovato tutte queste cose aperte stipetti e mi sono bloccato ho detto a mia moglie ferma non entrare perché ci sono stati dei ladri io pensavo che fosse un terremoto ma io non l'ho sentito hanno preso qualcosa non ho preso niente solo disordine hanno fatto non so che cosa dove andavano trovando non lo so per entrare i ladri hanno raggiunto l'appartamento al primo piano arrampicandosi sul muro ai tubi del palazzo e forzando il balcone del soggiorno tanta paura sì perché potevo ci poteva capitare nel momento che stavo qui a casa io ringrazio che non mi sono trovata perché già sono rimasta traumatizzata quando abbiamo visto questa sorpresa poi la paura c'è ancora perché quando stamattina siamo rientrati mi faceva senso entrare qui dentro quindi la paura c'è ancora un episodio su cui va fatta chiarezza abbiamo lasciato così sta roba sotto sopra perché dobbiamo fare la denuncia per gli indagini dai carabinieri dai carabinieri alla polizia che ha organizzato una campagna contro le truffe agli anziani il titolo è non la non siete soli chiamateci sempre uno dei due spot è stato presentato sul profilo facebook della polizia lo vediamo nel servizio di tonino danese in italia le truffe ai cittadini con più di 65 anni sono purtroppo tante aumentate del 19 per cento nei primi sei mesi del 2016 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente le forze dell'ordine sono impegnate sul tema non solo sul territorio ma anche con campagne informative di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno la polizia ha messo a punto la campagna non siete soli hashtag chiamateci sempre due gli spot ideati da gianni politi uno degli spot è stato lanciato nelle scorse ore attraverso il profilo facebook della polizia di stato sul solco di quanto iniziato in estate in pochi secondi vengono mostrate le truffe più ricorrenti quelle tra le mura di casa in cui i malfattori si presentano come appartenenti alle forze dell'ordine tecnici del gas o altro la maggior parte delle truffe agli anziani avviene tra le mura domestiche i truffatori si presentano curati e ben vestiti vi sorridono mostrandosi gentili e disponibili dopo essersi presentati quello che vi raccontano sembra credibile prima di far entrare degli sconosciuti in casa verificate con una telefonata non siete soli chiamateci sempre mai fidarsi degli sconosciuti dunque che si presentano alla porta di casa prudenza cautela e soprattutto chiamare la polizia e le campagne di sensibilizzazione che abbiamo portato avanti fa sapere la polizia hanno prodotto due effetti positivi il primo che gli anziani sono sempre più informati sui raggiri e riescono sempre più spesso a sventare loro stessi le truffe il secondo effetto è una maggiore consapevolezza del fenomeno che porta a reagire meglio e a denunciare questi reati contribuendo così a reprimerli e anche quest'anno è stato rinnovato il progetto di educazione alla legalità scuola aperta promosso dalla questura di campo basso si è svolto nelle primarie secondarie della città l'iniziativa partita nel 2015 per il volere del questore pagano ha consentito di avvicinare centinaia di bambini e ragazzi per diffondere la cultura della legalità finalizzata alla formazione dei cittadini del domani 150 partecipanti alla trignolata che si è svolta a bagnoli del trigno una giornata dedicata alla natura che ci racconta in questo servizio giuseppe carriera condivisione nel rapporto con la natura e la scoperta delle piante del loro habitat conoscenza attraverso la corretta informazione scientifica consapevolezza del grande bagaglio di proprietà delle piante nei diversi ambiti dalla tradizione all'uso gastronomico dal benessere alla salute con questa filosofia si sviluppa annualmente la trignolata giunta alla sua quarta edizione che ogni anno coinvolge a bagnoli del trigno un numero maggiore di partecipanti provenienti da tutta italia per molti di loro il molise l'areale di bagnoli e il trigno la pianta con le truppe dal colore marcato sono una piacevole scoperta è la prima volta che veniamo avevamo sentito parlare di questa raccolta nelle precedenti edizioni ci siamo iscritti ed è stata veramente una bella esperienza è la mia prima esperienza ed è stata positiva poi ho avuto un gruppo così simpatico che ci ha trasportati alla raccolta una giornata intera cominciata con un convegno di carattere scientifico poi l'uscita in campo in 150 hanno sfidato il vento e la pioggia a tratti la raccolta comune come momento di contatto diretto con la natura per comprendere in maniera inequivocabile dove nascono crescono e come vengono raccolte le truppe da sempre utilizzato nella tradizione dei nonni e quindi rivalutato sotto un profilo culturale storico nell'arco di questi quattro anni il prunus è l'elemento fondamentale di un integratore alimentare frutto di una rigorosa ricerca che ancora continua in una giornata peraltro anche ventosa e piovosa oggi ma che ha visto questa partecipazione veramente ecco con passione si è usciti lo stesso a raccogliere le drupe di prunus di trinio appunto aria di festa aria di gioia poi c'è l'aspetto scientifico e quindi chiaramente si è parlato anche di trinio m delle degli ultimi aggiornamenti scientifici in maniera molto chiara questo significa poi poter portare la scienza al grande pubblico per metterne una comprensione anche di meccanismi a volte molto complicati. Anche in campo prosegue l'impegno per approfondire l'aspetto botanico legato al trinio e sviluppare tecniche agronomiche in grado di permettere la crescita in aree coltivate e selezionate sempre dell'areale di Bagnoli come spiega Sebastiano Delfine docente di coltivazioni erbacee presso l'università del Molise. Il nostro problema è appunto quello di migliorare qualitativamente le drupe e lo dobbiamo fare in campo dove queste sono allevate in maniera assolutamente biologica visto che l'azienda in cui ci muoviamo è certificata bio. Quello che stiamo facendo è appunto cercare di migliorare le drupe coltivandole in maniera opportuna. Abbiamo messo a dimorare le piante che si stanno sviluppando seguendo accorgimenti e disciplinari di produzione particolari che stiamo mettendo a punto in questo territorio e inoltre stiamo lavorando sulla parte naturale spontanea dell'ambiente di Bagnoli del Trigno, lavoro che è mirato appunto a selezionare produzioni, produttività e quindi qualità diverse all'interno di queste drupe. Tradizione, sapore tipico e spettacolo, l'atmosfera di cantine divine che si è svolta a Guardia Reggia, il servizio di Patrizia Testa. Tre giorni di festa che il cattivo tempo non ha fermato. Nel suggestivo borgo antico di Guardia Reggia è andata in scena la sesta edizione di cantine divine. Siamo giunti alla sesta edizione, siamo contenti del risultato perché come potete vedere insomma ogni anno cerchiamo di migliorare un attimino le location, le postazioni, le cantine. Peccato il tempo, purtroppo o dobbiamo cambiare veramente novembre, insomma siamo un attimino sfortunati perché è vero che ci avviciniamo molto all'inverno e quindi rischiamo sempre di trovare questo tempo. Ma comunque anche altri miei colleghi sindaci che hanno organizzato le loro amministrazioni le prologo, altre festività, insomma anche durante l'estate, hanno avuto problemi perché quest'anno è stato proprio pazzo. Guardia Reggia ha aperto le porte delle sue cantine a tanti appassionati e curiosi che hanno raggiunto il paese ai piedi del Monte Mutria per gustare tante prelibatezze tipiche del posto e sapori del bosco. Funghi, polenta, baccalà, cavatelli con salsiccia, arrosticini, pizza e molto altro. Tutto accompagnato naturalmente da un buon bicchiere di vino. Il piatto diciamo così che ci rappresenta è la zuppa cece e castagne, quindi le castagne è un prodotto d'autunno e quindi diciamo fa la padrona nella nostra cantina. Accompagnato poi da polenta, insomma altre cose che diciamo in questo periodo con questa temperatura ci stanno bene. Non solo cibo però, tante le attrazioni, musica e canti popolari, artisti di strada, escursioni guidate tra i sentieri dell'Oasi WWF e visite al Museo del Contadino che ha proposto spaccati di vita della tradizione contadina mettendo in mostra arnesi, arredamenti e oggetti d'uso quotidiano. Parliamo adesso del romanzo edito da Mondadori di Valentina Farinaccio. La strada del ritorno è sempre più corta, è stato presentato a Isernia. Vediamo. Sullo sfondo c'è Campobasso, simbolo di un provincialismo sonnolento ancorato a leggi ancestrali. La storia ruota intorno a Vera, una ragazza ironica e irriverente, vivace e fantasiosa che a certi stereotipi si ribella. Un racconto graffiante ma che sa strappare sorrisi, una storia che oltre a rappresentare una vera e propria dichiarazione d'amore per i libri e la lettura, invita a guardarsi dentro più a fondo. La strada del ritorno è sempre più corta, edito da Mondadori, segna l'esordio letterario di Valentina Farinaccio. Campobasso fa da cornice, diciamo, a questa storia. Racconta la vita di tre donne, Vera, Lia e Santa, che si ritrovano a dover fare i conti con la perdita dell'uomo che amano. Questo Giordano Lorenzini che di una è il papà, di un'altra il marito e di un'altra ancora il figlio. Quindi queste donne ce la metteranno tutta per provare in qualche modo a far finta di niente, a fingere che questo dolore non ci sia, non sia così forte, fino a che arriva un momento in cui nel romanzo si devono guardare in faccia e affrontare una volta per tutto quello che è accaduto molti anni prima per poter superare questo enorme lutto e andare avanti. Originaria di Campobasso, ma da anni trapiantata nella capitale, Valentina Farinaccio è giornalista e critico musicale. Collabora con il Venerdì di Repubblica e con la web tv dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. A questo suo primo romanzo affida anche riflessioni profonde, mette in luce gli stati d'animo che toccano la vita di ognuno di noi, come il dolore. Per superarlo indenni, dice, bisogna affrontarlo. Una cosa di cui io sono certa, cioè per riuscire veramente a metabolizzare un dolore bisogna passarci dentro, superarlo proprio, non si può chiedere uno sconto al dolore e quindi questo libro racconta proprio di questo, di come si possa passare attraverso il dolore però anche con leggerezza perché le donne che riempiono questo libro sono delle donne che appunto vivono una tragedia però a loro modo sono donne leggere, lievi, che riescono a prendersi in giro, a ironizzare e quindi il risultato è che la storia che loro vivono è straziante però allo stesso tempo riesce ad essere anche divertente. Mi ricordo l'appuntamento di stasera con Milibar in onda alle 21. Si parlerà di Transumanza con gli ospiti in studio Letizia Bindi, docente di antropologia all'Università del Molise, Fabio Pilla, docente di zootecnia sempre dell'Unimol e Antonio D'Ambrosio insieme a Pasquale Di Bello, l'appuntamento è alle 21. È tutto con questa notizia, chiudiamo l'edizione delle 14 del nostro telegiornale e vi lascio alle previsioni del tempo, tra poco più di mezz'ora ci ritroviamo per gli aggiornamenti. Grazie e a più tardi.